Ritengo importante partecipare perché più rispettiamo le regole più velocemente passerà questa situazione prima torneremo a spingere a trovarci con gli eventi a festeggiare assieme sarà sicuramente strano andare avanti con mascherine e cose ma una cosa che probabilmente dovremmo abituarci per la salute di tutti ma immagino che insomma si possa ritornare prima o poi alla normalità questo gesto della foto per me significa il sorriso che nascondiamo tutti sotto la mascherina in questi mesi è stata dura e sono venuti a mancare gli abbracci la vicinanza il calore umano e questa campagna insomma che pubblicizza il sorriso che tutti noi sotto sotto portiamo per tornare alla normalità per me significa questo